Il vaccino ti rende più forte. È questo lo slogan scelto dalla Regione Lazio per la campagna anti-influenzale 2016, iniziata ad ottobre ed attiva fino al 31 dicembre. Il vaccino, spiega la FIMG, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, è l'arma più potente contro l'influenza. L'invito dunque è quello di non avere timori infondati. Nei periodi di picco dell'influenza, le visite presso gli ambulatori dei medici di famiglia arrivano a essere anche 20-25 al giorno. Ci si può vaccinare gratuitamente presso i centri asli dai medici di famiglia e presso i pediatri. La Regione Lazio, anche quest'anno, ha messo a disposizione più di un milione di dosi necessarie per vaccinare la popolazione. Sono già disponibili presso gli studi medici circa 800 mila dosi. L'anno scorso abbiamo vaccinato per circa una copertura del 52% che è un po' bassa ed è lontana dall'obiettivo ottimale indicato dal Ministero del 75%. Tra le novità di quest'anno c'è l'uso più esteso della vaccinazione quadrivalente che favorisce una maggiore protezione in quanto garantisce un'efficace corrispondenza tra gli antigeni virali. Vaccinarsi inoltre è un atto sociale perché proteggendo se stessi dall'influenza non si contagiano gli altri. Solo migliorando la copertura vaccinale, ancora molto bassa nel Lazio, si può limitare la circolazione dei virus influenzali. In quest'ottica si consiglia di farlo non solo agli over 65 soggetti più a rischio ma anche alle persone sane rispettare i tempi, però è fondamentale. Dobbiamo tenere conto che c'è una finestra dal momento in cui si fa la vaccinazione di circa due settimane prima che il nostro sistema immunitario reagisca appunto alla vaccinazione proteggendosi quindi dall'influenza in arrivo. Ci può essere anche un misconoscimento della malattia in causa. Voglio dire, mi posso prendere un raffreddore e scambiarlo per influenza. Durante la stagione epidemica invernale solitamente circolano in molti virus respiratori che non sono quelli influenzali ma si assomigliano molto con gli stessi effetti.